Tante le personalità politiche che hanno preso parte alla cerimonia di titolazione della piazza ad Antonio Evaliante nel piccolo paese del Cilento, Cuccaro Vetere. Per 27 anni ha amministrato il nostro comune ed era doveroso riconoscimento alla sua memoria, così il primo cittadino di Cuccaro Vetere, Aldo Luongo. È stato esempio per tanti giovani, ha spinto tanti giovani, i quali poi hanno raggiunto negli anni risultati professionali anche importanti. Diciamo che lui meritava un forte riconoscimento e l'intitolazione della piazza, che è il punto dove poi lui incontrava tutte le persone di Cuccaro, ci è sembrato che fosse la cosa più giusta da fare. È stata una persona che ha sostenuto molto i giovani, il vero politico è quello che riesce ad avere una visione concreta del futuro e Antonio Evaliante era una persona che aveva sempre una visione del futuro e questo credo che ci mancherà davvero tanto. Sono invece le parole del sindaco di Gioi Cilento, Maria Teresa Scarpa. Il vero politico è quello che riesce ad avere una visione del futuro e Antonio Evaliante era una persona che aveva sempre una visione del futuro e questo forse è quello che ci mancherà di più. Avere una persona con la quale potersi confrontare su quella che è una visione del futuro. È importante che la piazza, come è stato ricordato durante la cerimonia, che è un luogo di incontro delle nostre comunità, porti il suo nome perché lui era una persona che favoriva l'incontro e quindi questo ci ricorderà come possiamo essere degli amministratori degni di un territorio come il nostro che ha le ambizioni di crescere e di essere il luogo di incontro per tanti. Antonio Evaliante ha fatto del rispetto degli altri un valore di vita, a dichiararlo il presidente della provincia di Salerno Michele Estrianese, presente alla cerimonia di intitolazione. Antonio Evaliante, sottolinea, ha segnato un territorio, quello del Cilento, ma ha rappresentato tanto anche in provincia di Salerno. Siamo tutti qui come istituzioni, dal presidente della regione al presidente della provincia, ai sindaci del territorio, per testimoniare il rispetto che nutriamo per questo uomo politico che ha segnato un territorio. Un grande uomo politico, una grande persona che aveva fatto del rispetto degli altri un valore di vita.